e bentornati bentornati con una parte di grano registro in questa parte finiremo i larghi deliziosi vai allora la seconda volta prima la registro a sta parte perchè non ci riesce il pezzettino iniziale madonna tanta wow che grande wow che grande no dai mi culo stronti non mi avrete mai no mi sono messo a camminare sulla paletta ma sono tutti drogati dai niente dai 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 niente da fare vai vai guardate cosa succede adesso ragazzi ecco dentro la bocca del drago alle niente il mattino finiamo dentro al drago è bene è bene ragazzi questo boss va combattuto dall'interno e c'è la nostra cara vecchia non si chiede ma dove va? ma la mano ha puntato dentro qua che sono i minus si si a do fermo no non l'avevo capito non l'avevo capito aspetta 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 scoppiandile bene no eh ahas ahs siamo ancora arrivati alla fine eccoci ci siamo siamo arrivati alla battaglia boss no il volume è a 65 la musichetta alla zorro proprio ragazzi no non ricordo male ma no ma che taglio eh si vedete ragazzi mi dà una frazione di secondo per colpire le cose difficilissimo non mi stungi ah ecco si diventa bellissima prendi il cuore perché c'è qualche lume ah no tu non lo fai io non ho proprio il cuore fermo vieni qui non mi sfuggi non mi sfuggi eh no perché stanno per una frazione di secondo prendimi il cuore per favore attento no io mi ricordo che io ma dai ero lì così vicino così lontano no 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 eh con la canela la canela lascio tutti e due veloce tocca a una fuga Madonna Io sto lasciando uscire infuocate Sembra Madonna Ah Per me non c'è Spera come si c'è Non c'è Vai No 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 Ma comincia ad andare in là senza motivo E ora Ah per bene meglio Cioè allora non capisco come funziona sto forzo sui muri Devi sempre indicare la direzione di più caldo No eh perché tengo sempre quella Io ho fatto una cosa sperpa l'argo qua Eh lo so Poi il cuore non è che è utile Perché se le spie ti colpiscono Cadi e muori Vai No non finisce più Ah ecco E sottofondo ci sono io Ecco che ci risputa fuori e ringraziamo il cielo se siamo usciti dalla bocca e non da Eh Mi sento molto meglio Molto meglio Nella versione originale dice proprio molto bene in italiano Sì Però appena ho visto in italiano non c'ha visto comunque Tutte le versioni dice molto bene in italiano Ho visto Ah e per dieci rum non ce l'abbiamo fatta Continuo Ho visto che sia un'esperienza all'esterno che publi Non c'è sempre più A Quanto c'hanno Vediamo un po' Sette minuti vai ok pesca strana è stata franca anche alla fine madonna stupendo di merda scusa donna vuoi andare su Rhyman? ma nona guarda la donna è scivolosa assai eh perchè non libera adesso? cosa mi ha preso? madonna entrava in acqua cari cazzo dai vai provaci almeno tu oh madonna dai me l'avevo ucciso hai visto? non me l'avevo ucciso? si fatta scontino e quanto siamo? 2 minuti e 48 che facciamo ora? eh appunto ho un'idea guarda monterò il video rendendo l'unica parte questa è la precedente giusto è è è è Grazie a tutti.